Avete mille maniere per utilizzare la maglietta e i pantaloncini io li userò adesso e quando arriva il periodo freddo freddo perché Una delle cose di cui sono orgoglioso è che nel 2020 esistono ancora oggi dei prodotti top italiani che possono essere utilizzati nel mondo della corsa da noi podisti amatori in questo periodo autunnale veramente molto strano se di solito parlo di prodotti giapponesi o americani nella mia telecamera giapponese sappiate che oxyborn azienda dal nome esotico ma di fatto bresciana ha lanciato una serie di capi tecnici con l'obiettivo di rappresentare un primo strato protettivo ammortizzato e anatomico per chi mi segue da tempo sul canale sa ovviamente che sono interessato a tutte le evoluzioni tecnologiche e oggi vi parlerò di questo prodotto innovativo lo farò in maniera semplice e non dettagliata però sappiate che chi lo volesse provare lo consiglio davvero anche perché è qualcosa di unico rispetto a quello presente sul mercato tra l'altro siccome si stanno presentando sempre più delle temperature un po più rigide rispetto a qualche giorno fa abbiamo preparato un video che sarà descritto nei prossimi giorni qui sul canale che spiega come comportarsi ed allenarsi con il freddo se non lo volete perdere vi suggerisco di iscrivervi al canale e attivare le notifiche tra l'altro sappiate che il canale è uno dei pochi non tech che si vede in 4k e quindi si vede benissimo anche sulla televisione essendo un prodotto tech vero e proprio veniamo alle specifiche come al solito sappiate che oxyborn utilizza dei filati particolarmente innovativi è stata in effetti scelta la fibra più leggera esistente in natura chiamata dry harna che assicura una perfetta vestibilità e una grande capacità di movimento di prodotti oxyborn sono stati lanciati tre una maglietta un pantaloncino una calza escape questa calze che tra l'altro ho utilizzato il campione italiano master in pista ad arezza ad ottobre mia unica gara di quest'anno abbastanza sciagurato venendo alla maglietta si chiama cross e mi ha stupito davvero particolarmente anche perché oltre ad essere ultra leggera vede nello stratto a contatto con la pelle la presenta del come dicevo dry harna che la rende perfetta per quelle uscite intense che in questo periodo vogliamo fare in preparazione della maratona la struttura micro rete poi accelera la traspirazione del calore lasciando il corpo asciutto sia in un lungo con variazioni sia nei medi o addirittura nelle ripetute vi allego qua di fianco a quali temperature utilizzarla sappiate comunque che può essere paradossalmente utilizzata anche in un momento un po più caldo tucisi in fundo sappiate che comunque è una seconda pelle grazie alla totale assenza di cucitura le finiture a taglio vivo vi consente di non avere irritazioni sul corpo per quanto invece riguarda gli short sono a compressione dovrei in effetti parlarne in maniera dettagliata qui sul canale sappiate però in maniera semplice che questo prodotto stimola davvero la circolazione migliorando l'ossigenazione muscolare accelerando lo smaltimento delle tossine dell'acido lattico per chi fosse interessato vi consiglio di leggere parlo sempre di libri qui sul canale quello di kelly star ready to run tra l'altro ho fatto una piccola recensione amazon a cui vi rimando che spiega proprio i vantaggi della compressione kelly ha scritto un altro fantastico libro agile come leopardo non è per la corsa ma sappiate che questo è un libro di sport a 360 gradi se avete tempo voglia e non sapete cosa fare durante questi giorni di lockdown ve lo consiglio ma senza divagare ulteriormente vi posso dire che secondo me gli short axo si chiamano proprio così sono davvero utili perché grazie alla compressione nelle cosce garantiscono un ottimo controllo e reattività e offrono un'azione massaggiante lasciatemi passare il termine anticrampo anche in questo caso la fascia stabilizzante presente nella parte superiore consente di disperdere più rapidamente il calore e di conseguenza è un prodotto che assolutamente penso sia utile nell'arsenale del podista amatore infine la calza escape consente una maggiore traspirabilità garantendo una protezione totale del piede lo strato dry yarn come ho già detto offre una perfetta traspirabilità e per concludere questa recensione prima di passare la parola ad andrea consiglio davvero i prodotti di questa azienda bresciana italiana a tutti gli effetti allego il link dell'azienda ora lascio la parola ad andrea che mi ha fatto da tester sul campo l'ho sentito dal mio giardino di casa proprio il giorno prima del soft lockdown per evitare dubbi sappiate che andrea si è dimostrato il perfetto tester e l'uomo più entusiasta al mondo di questi prodotti oxyburn lascio la parola proprio ad andrea vediamo cosa ci racconta ciao andrea tutto bene ciao max tutto a posto cosa stai preparando io sto preparando la maratona di reggio emilia ho un piano b ma mi sa che mi salteranno tutte e due però va bene ma il 13 dicembre farà molto freddo come come ti stai allenando in questi giorni ecco allora come mi sto allenando sto sfruttando questo cadeau dato da oxyburn adesso non voglio fare la marchetta pubblicitaria sarà che ho poco materiale tecnico bello questo ne fa parte l'ho provato praticamente subito appena mi era stato dato da max appena ce l'avevano donato l'ho testato subito forse faceva anche abbastanza caldino non non c'era una temperatura esageratamente fredda anzi ti dirò che adesso è un novembre abbastanza caldo l'ho usata e la particolarità è che sia nei momenti di freddo adesso ti ripeto nel freddo 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 dicembre non sono riuscito a provarlo magari ti manderò un secondo video da casa provato con magari zero gradi meno o sotto lo zero ti dirò mi sono trovato davvero bene sia per traspirabilità che per comodità e per tenuta del caldo e non eccessivamente riscaldarmi quando non c'era troppo freddo quindi ho sempre avuto quei grossi problemi magari perché avevo sempre dei capi abbastanza non tecnici quando faceva questa temperatura di 15 gradi della roba termica addosso era davvero immettibile perché dopo un chilometro due morivo di caldo queste devo dire che quasi mi mantengono quella temperatura che ho quando esco di casa e mi trovo molto bene diciamo qualche giorno fa le hai utilizzati per correre una maratona o comunque 42 chilometri tra l'altro in due ore 43 come come l'hai sentiti ecco infatti quel giorno lì l'ho usati io ho un grosso problema quando corro che un sacco di frizione soprattutto sulle gambe e anche sotto le ascelle per per colpa delle canotte delle magliette li ho voluto utilizzare perché questa qua non ha praticamente cuciture e infatti non mi ha dato problemi e anche i pantaloncini non mi hanno dato nessun problema sono ritornato a casa tutto a posto diciamo senza escoriazioni varie e ti dirò mi ha salvato anche questa specie di pancerina che c'è sotto c'è il pantalone normale poi c'è questo pezzettino che viene sopra mi salva perché comunque quando c'è quel leggero freddo io metto sempre una maglietta dentro nei pantaloni invece sembro un cretino invece con questo qua sembro un po meno un cretino diciamo e niente mi protegge da quegli spifferi che entrano sotto il pancino che mi fanno stare male che chi corre sa benissimo che che problemi provocano e ti dico abrasioni zero di niente e ti dico che per 42 km in una giornata dove siamo partiti perché c'era anche max che c'era abbastanza freschino nebbia giornata terribile siamo arrivati col caldo io non ho mai sofferto nel freddo nel caldo infatti secondo me li vendono come vestiti per l'inverno ma adesso non ti dico di usarli in estate però mi sono trovato benissimo anche in quella in quel mezzo o mezzo che non sai mai come vestirti ho usato questi qua un manicotto e una cannottina sopra e sono stato da dio quindi perfetto sia col freddo che con sia col poco freddo col poco caldo sono stati perfetti a chi li consiglieresti? guarda ti dico un po' a tutti perché comunque è vestiario tecnico molto buono molto particolare perché davvero soprattutto la maglietta è molto particolare va bene da chi ha la S a chi ha la L è la stessa misura e ti dico io ci sto dentro benissimo e l'abbiamo provata anche su una L è uno più alto perfetto ti dico quindi è vestiario davvero da tutti i giorni per chi corre e poi ve lo giostrate come volete perché alla fine la maglietta a maniche corte che era quello che stavo cercando nell'ultimo periodo perché comunque la maglietta a maniche corte ci puoi mettere sopra una felpa o addirittura puoi correre con lei solamente i manicotti oppure puoi correre con lei sopra una magliettina a maniche corte avete mille maniere per utilizzare la maglietta e i pantaloncini io li userò adesso e quando arrivo al periodo freddo freddo perché mi tengono il quadricipi del femorale caldo ma non mi costringono il ginocchio io ho sempre avuto quel problema con i pantaloni lunghi a fare ripetuti in pista questi pantaloni questi pantaloncini cascano a pennello mi sono dimenticato di dire le calze che anche loro salgono un attimino sopra sopra il piede quindi non mi danno problemi col collarino di certe scarpe e niente sono comodissime già dopo un po' di lavaggi ho visto che stanno tenendo ancora quindi direi non ho un attimo acquisto perché non le ho comprate però ti dico che ne vale la pena assolutamente va bene grazie Andrea ci vediamo alla prossima ciao ciao dimenticavo di dirvi che io sono Massi anche se Andrea mi sgrida sto cercando di pubblicare ogni 2-3 giorni per rendere viva questa community di persone come me che amano scarpe, tecnologie ed allenamenti oggi stranamente non sono stato disturbato dal coniglio durante la recensione comunque sappiate che alla fine del video troverete Bonnie, la nostra amica Bonnie che cercherà di stabilire quale sarà la prossima scarpa della quale noi ci occuperemo qui sul canale nei prossimi giorni facendo una recensione di stagliate e per oggi è tutto anche se stanno aumentando le zone rosse se potete keep running stay strong ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao